80 vigili di quartiere arriveranno in Toscana, in 15 comuni della regione, 6 di questi ad Arezzo. Un'iniziativa che mira ad aumentare la sicurezza percepita dai cittadini. Specialmente di sera, quando girare in certi luoghi non è da essere tranquilli. La regione toscana si è detta pronta a sostenere i costi di questa sperimentazione. Circa 3 milioni ogni anno per il prossimo triennio. Le pattuglie lavoreranno a piedi nelle strade e nei quartieri più delicati. L'idea era stata lanciata nei mesi scorsi dal governatore Rossi. Ieri la Giunta, dopo aver trovato le risorse, ha dato il via libera alla sperimentazione. Più forze dell'ordine per tenere più sotto controllo la situazione, sono molto d'accordo. Ti fa stare tranquillo, è innegabile. Vedere delle forze dell'ordine ti fa stare più tranquillo. I vigili di quartiere entreranno in azione dunque nelle 15 città individuate. La scelta è ricaduta su quelle che negli ultimi tre anni hanno registrato un più alto indice di furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, violenze sessuali, minacce, lesioni e percosse. Ad Arezzo arriveranno tre coppie di vigili distribuite su altrettanti turni giornalieri. Spetterà poi all'amministrazione locale individuare le zone dove intervenire. Quali sono le zone secondo lei che avrebbero più bisogno? Via Veneto è fuori discussione, anche se ora l'hanno chiuso lì dove la farmacia, ma insomma c'è sempre il ritrovo, ho visto c'è le telecamere a Campo di Marte, va bene. Via Veneto è fuori discussione. San Donato, fase d'alcollo del Pionta là.